Proseguono i lavori al vecchio palasport di Viale dei Partigiani, ormai prossimo a diventare il nuovo auditorium della città di Pesaro. Decade però l'idea di poterlo inaugurare per l'evento di chiusura delle Rossini Opera Festival 2021. A cambiare le carte in tavola il gratificante annuncio della presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al galà di chiusura del ROF 2021. Ma un conto è adeguare una struttura in forma provvisoria per l'accoglienza di un singolo concerto, un altro predisporre i requisiti e i vincoli di sicurezza per ospitare il capo dello Stato. Da qui la decisione di deviare l'evento in una più adeguata piazza del popolo rispetto a un palasport i cui lavori stanno tra l'altro convivendo con cambi di ditta, intoppi nelle forniture e adeguamenti energetici. Devo dire che l'arrivo del Presidente della Repubblica è sempre un grande evento e quindi una grande operazione del Sindaco può riuscire a portare a Pesaro la personalità più importante del nostro Stato. Noi stiamo lavorando con la ditta a doppi turni sul Palazzo dello Sport e se voi passate anche adesso potete vedere quante persone ci sono all'interno del cantiere. Ovviamente ospitare il Presidente della Repubblica in un contenitore richiede delle garanzie dal punto di vista della sicurezza importanti che in questo momento non siamo in grado di garantire. Questo non vuol dire che da qui ad agosto-settembre buona parte dei lavori, se facciamo il grosso dei lavori, non sarà terminato. La ditta continua a lavorare con lo stesso spirito, con lo stesso ritmo e con ovviamente oggettive difficoltà nel reperimento del materiale. Come si può constatare anche nei cantieri quelli di casa si sta tralessando un periodo particolarmente complicato, i prezzi sono aumentati, le forniture sono rallentate. Nonostante questo il progetto Palazzo Sport sta andando avanti. È un progetto che abbiamo rafforzato nel corso degli ultimi mesi anche attraverso la valorizzazione energetica dell'impianto. Nel progetto iniziale l'efficientamento energetico, cioè portare il Palazzetto dello Sport a una qualità energetica in Zeb per capirci come la scuola Olivieri di Via la Marmora non era previsto. Abbiamo voluto fare anche questo passo perché nel momento in cui si costruisce una struttura nuova, moderna nel cuore della città l'efficientamento energetico diventa una delle cose, oltre a quello strutturale, diventa la cosa più importante anche dal punto di vista poi della gestione futura dell'impianto. Ripeto, noi stiamo lavorando, la ditta sta lavorando a pieno ritmo e ovviamente abbiamo perso i mesi del Covid dove oggettivamente più di un tot di operai in cantiere non ci potevano stare, adesso lavorano 40-50 unità ogni giorno tra operai e tecnici all'interno del cantiere, prima ce ne potevano stare dai 6 ai 10, quindi superati quei mesi di grande difficoltà sono ripartiti a pieno ritmo, a pieno regime, tant'è che abbiamo le proteste per il rumore e per la polvere alle 21, di solito succede il contrario che la gente ci chiede come mai non c'è nessuno a lavorare. Qui sono in molti, il lavoro è un lavoro complesso, sono diversi milioni di euro e noi continuiamo a lavorare per provare ad avere la struttura pronta e funzionale quanto prima.